Io dico che la nostra mente è la nostra anima, noi non abbiamo una mente se non abbiamo l'anima, l'anima no, l'anima non la vede nessuno, eppure c'è qualcuno che ci crede molto e chi ci crede e vive la propria anima come la propria intelligenza, come la propria sensibilità, io credo che sia uno che ha raggiunto l'armonia. È il messaggio che il presidente del Benevento Calcio, Reste Vigorito, ha rivolto ai tanti studenti presenti questo pomeriggio al Teatro San Marco per partecipare al terzo appuntamento del Festival Filosofico del Sagno dedicato al tema l'armonia dello sport. Ed è proprio parlando di sport e cultura che alle future generazioni il patron dei giallorossi ha chiesto di ricordare l'importanza di lasciare spazio nella vita a temi come la solidarietà, la saggezza, la generosità. Quello che manca oggi è proprio questo, è il senso della precarietà della nostra vita che può diventare futura e eterna solo se lasciamo qualche cosa di bello. Vorrei che i ragazzi questo anticipassero i tempi, come hanno anticipato tante cose, io non facevo quello che fanno loro adesso che sono giovani e loro possono fare quello che noi non ci aspettiamo che fanno, anticipare i tempi della solidarietà, della saggezza, della generosità. Sport e cultura insieme dunque per ricordare giovani il valore delle regole e l'importanza della condivisione proprio partendo dall'esempio di mister Inzaghi. I valori della vita, insomma, quello me l'ha insegnato i miei genitori che sono fondamentali per creare una cultura nei ragazzi e poi, insomma, mi hanno insegnato la buona educazione, a rispettare gli altri e poi è chiaro che lo sport unisce e quella è la cosa più bella.